Interviene Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali. Emergenza casa, vero problema anche in Puglia, si acceleri sulla nostra proposta di riforma. Sul problema casa a livello nazionale il governo Lega, Movimento 5 Stelle, invece di fare la guerra alla povertà, sceglie di fare guerra ai poveri. La nuova circolare del ministro Salvini infatti sugli sgomberi degli edifici occupati dai senza casa rischia di aprire una stagione di tensioni sociali e di mettere migliaia di famiglie in mezzo alla strada. L'Italia presenta un'offerta di edilizia residenziale pubblica pari a un quarto dell'offerta media del resto d'Europa. Allora, invece di fare gli interessi dei più forti con la flat tax, il governo finanzi un piano pluriennale di investimenti per recuperare quelle decine di migliaia di immobili pubblici abbandonati nelle grandi città, trasformandoli in edilizia residenziale. Per risolvere il problema delle occupazioni abusive bisogna ampliare l'edilizia pubblica e non attuare sgomberi. Proprio in riferimento a questo principio sancito nella sentenza dell'Alta Corte numero 217 del 25 febbraio 1988, prosegue Borracino, rammento che abbiamo presentato in regione a maggio del 2017 una proposta di legge con l'obiettivo di introdurre norme sul disagio abitativo dando una risposta concreta ai cittadini impossibilitati a far fronte ai costi di un'abitazione e che quindi troppo spesso finiscono letteralmente a vivere per la strada come sanno bene i tanti amministratori locali che quotidianamente si trovano ad affrontare situazioni drammatiche e ai quali il presidente dell'Anci De Caro ha dato voce. Perciò anche alla luce della circolare Salvini che riteniamo ingiusta e sbagliata sollecitiamo la quinta commissione a prendere in esame la nostra proposta.